E gridate, 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 sai a me che me ne importa E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta Da quando l'ipotesi dell'uscita dall'Eurozone dell'Italia ha trovato poco spazio anche nei talk show, nei telegiornali e nei quotidiani, anche se non tutti, è sempre più frequente imbattersi in commenti del tipo Torneremo all'Italia della Liretta? Che fine faremo? Lo Zimbabwe? Saremo un paese del terzo mondo? No, non sono d'accordo, assolutamente no Ci occuperemo di queste affermazioni grazie all'ausilio di grafici, di analisi economiche e statistiche della Banca d'Italia, dell'Istat, dell'Ocse e di istituti finanziari internazionali come Thomson Reuters Come chiunque sa, oggi siamo in recessione, ovvero con un PIL negativo e con prospettive di peggioramento per il 2013 Ma andiamo a vedere com'era la produzione industriale italiana prima della moneta unica a confronto con quella dei paesi principali dell'Eurozona e vediamo com'è oggi Questo grafico è stato riportato dalla Banca d'Italia nella relazione annuale del 2011 nel capitolo Andamenti macroeconomici, politica di bilancio e politica monetaria nell'area Euro Come si nota, nel 2001 l'Italia era la prima della classe, il paese più produttivo Come si nota nella parte del grafico relativa all'anno 2012, oggi l'Italia è sprofondata al penultimo posto nell'Eurozona, prima della Spagna La produzione industriale italiana è stata distrutta Ma guardiamo al 2001, chi era l'ultima della classe mentre ora è la prima dell'Eurozona, la Germania Spostiamoci ora sulla competitività dei principali paesi europei prima dell'entrata nell'Eurozona e dopo Anche questo grafico è stato presentato dalla Banca d'Italia nella relazione annuale del 2011 Un maggior indicatore indica una minor competitività Come vediamo, prima del 2002 l'Italia e la Germania erano più o meno pari in termini di competitività sui mercati Erano le migliori d'Europa Nel 2011 la Germania dell'Euro, e in misura minore anche la Francia, sorpassa di gran lunga l'Italia Relativamente alla Germania, è bene ricordare però come essa abbia completamente schiacciato il costo per unità di lavoro già dalla fine degli anni 90 per prepararsi all'entrata nell'Unione Monetaria Europea Nelle parole di Jan Kregel del 1998 La Germania sembra aver adottato una politica di controllo della crescita dei salari nominali a un tasso che è inferiore alla crescita della sua produttività interna I costi unitari del lavoro tedesco sono in calo Se la Germania infatti continua a cercare, come sembra abbia fatto per circa due anni di abbassare i suoi costi unitari del lavoro al 5% cioè a prezzi che sono sostanzialmente inferiori a quelli degli altri paesi europei senza più la possibilità, come è avvenuto in passato, di rivalutare il marco rispetto alle altre valute Questo significa che, se io sono un costruttore o un governo di un paese europeo non tedesco sperimenterò a margine di profitto in calo finché anch'io non riuscirò a comprimere i miei costi unitari del lavoro Pertanto, se vi arrischio associato con l'introduzione dell'Unione Monetaria di una moneta unica nelle condizioni in cui la Germania sta praticando una politica basata sulla convinzione che in termini assoluti i costi salariali sono troppo elevati rispetto all'Asia e agli Stati Uniti non internamente relativamente all'Europa ci saranno pressioni deflazionistiche molto forti sulle retribuzioni degli altri paesi europei che produrranno un rischio che è, direi ora, approssimativamente in equilibrio tra inflazione zero e deflazione E' esattamente ciò che è accaduto e che sta accadendo Passiamo ora al commercio estero Qual era il paese dominante? Ci rispondono alcuni grafici mostrati dagli economisti MMT al summit di Modern Money Theory di Rimini tenutisi dal 24 al 26 febbraio 2012 Gli economisti sono Stephanie Kelton, Marshall Auerbach, William Black, Michael Hudson e uno dei padri della teoria del circuito monetario, Alain Parguet Il grafico mostra le partite correnti export-import dei principali paesi dell'Eurozona nel 1997 prima che fosse adottato l'euro L'Italia godeva di un surplus commerciale mentre la Germania era in deficit Ecco cosa è accaduto con l'introduzione dell'euro Chi ci ha guadagnato? Come riportava anche il sole 24 ore il 6 giugno 2012 E qui arriva il primo dato che dà la dimensione di quanto la Germania fino ad oggi stia tecnicamente beneficiando, in termini finanziari ed economici, da questa crisi Nei giorni scorsi il Bund tedesco a 10 anni prezzava un rendimento dell'1,345% annuo mai così basso nella storia Se si depura questo tasso per l'inflazione che viaggia oltre il 2% si attiene un rendimento reale negativo Un dato che, letto al contrario, equivale a una sorta di ristrutturazione gratuita del debito pubblico tedesco Niente male come vantaggio in tempo di crisi Anche perché questo avviene mentre i vicini, quelli più a sud, annaspano costretti a pagare rendimenti reali da record sul debito E qui arriva il secondo vantaggio della Germania da questa crisi questa volta più economico che finanziario Negli ultimi mesi è infatti aumentato lo shopping della Germania di imprese italiane ed europee a prezzi scontati Ma non finisce qui La Germania, quello stesso paese che nel 1997 pagava sui Bund a 10 anni un tasso del 5,5% non lontano dal 6,1% dei BTP di quel tempo funziona alla grande con l'euro Lo dimostrano i dati sulla bilancia dei pagamenti correnti che registra tutte le transazioni economiche di un paese tra residenti e non residenti e quindi anche il saldo import-export Dall'89 al 2000, quindi in piena fase pre-euro la bilancia dei pagamenti correnti della Germania era in rosso per 126 miliardi Dal 2001 al 2012, quindi in piena fase euro, comprendendo anche l'attuale fase di crisi dei paesi periferici è balzata in positivo a quota 1.791 miliardi E l'Italia, prima dell'introduzione dell'euro, aveva una bilancia dei pagamenti correnti positiva 53 miliardi contro i meno 388 accusati nel periodo successivo Altri argomenti privi di fondamento in cui è facile imbattersi sono quelli relativi al debito pubblico, agli eccessivi deficit di bilancio all'inflazione degna di Weimar e quant'altro Andiamo ora ad esaminare il problema del debito pubblico e quello dei deficit di bilancio Un paese con piena sovranità monetaria ed una fiat money non può mai fallire neanche a fronte di debiti pubblici giganteschi Ciò è stato oggetto di numerosi studi accademici e soprattutto da parte dall'economista Charles Goddard professore alla London School of Economics che ha lavorato anche nel Bank of England Monetary Policy Committee dal 1997 al 2000 Anche l'ex governatore della Federal Reserve, Alan Greenspan, è dello stesso avviso Analizziamo ora i deficit di bilancio Il grafico mostra i saldi settoriali dell'Italia in percentuale sul PIL Notiamo che a un deficit di bilancio governativo corrisponde specularmente un surplus di bilancio privato Significa che un deficit di bilancio del governo comporta un aumento della ricchezza finanziaria netta per il settore privato, famiglie, aziende e banche Più il governo è in deficit, più la ricchezza finanziaria netta di famiglie e aziende aumenta La stessa analisi dei saldi settoriali, questa volta relativa agli Stati Uniti d'America Come per l'Italia, a un deficit governativo corrisponde un surplus privato Ma noi siamo nell'eurozona Non possiamo più emettere la nostra moneta per finanziare la spesa pubblica Dobbiamo invece prendere in prestito dai mercati dei capitali privati internazionali banche commerciali, fondi di investimento, fondi di pensione, hedge funds, eccetera Ogni singolo euro In prestito ai tassi di interesse decisi dai mercati dei capitali Questa è la principale e drammatica causa della crisi dell'eurozona Nel 1998, ben quattro anni prima che l'euro divenisse la moneta unica L'economista MMT Matthew Forstater scriveva Le forze di mercato possono richiedere una politica fiscale prociclica durante una recessione Aggravando gli effetti recessivi Anche se non ci fossero limiti imposti sul deficit dei paesi e dei debiti nazionali La struttura dell'Unione Monetaria Europea rende quasi impossibile per un paese Adottare una politica anticiclica di bilancio Anche se ci fosse la volontà politica Questo perché cedendo alla loro sovranità monetaria nazionale I paesi non sono più in grado di condurre una politica fiscale e monetaria coordinata Essenziale per una risposta completa ed efficace alle crisi periodiche della domanda Infine, passiamo a vedere i dati relativi all'inflazione connessa al risparmio delle famiglie E alla chiusura del credito da parte delle banche alle imprese Attenendoci ai dati Istat, nel 1980 l'Italia aveva un'inflazione pari al 21,2% Molti ora staranno pensando che eravamo nella situazione dello Zimbabwe, di Weimar Che era l'anno in cui le famiglie consumavano tutto il loro reddito Non risparmiavamo nulla poiché i prezzi continuavano a salire senza sosta Ma i dati ci dicono che anche questa idea è priva di fondamenta, che non regge I dati Ocse mostrano che nel 1980 il risparmio delle famiglie italiane era il 25%, il più alto del mondo I dati relativi al 1990 vedono un'inflazione molto più bassa Il risparmio privato delle famiglie è aumentato al 25%, dati Ocse E l'inflazione viaggia al 6,5%, dati Istat Di nuovo, l'Italia è il leader mondiale del risparmio delle famiglie Nel 2009, sempre secondo l'Istat, avevamo un'inflazione pari allo 0,8% Gli economisti televisivi raccontano che questo è un ottimo livello Che con un'inflazione del genere siamo un paese moderno, ricco e produttivo Ma i numeri raccontano una storia diversa Sempre l'Ocse riporta che nel 2009 il risparmio delle famiglie era crollato al 6,8% Era diventato circa un quarto del 1990 In conclusione, vediamo ora quali sono le cause principali del credit crunch Delle banche nei confronti delle imprese italiane Imprese che falliscono a migliaia ogni giorno La linea rossa del grafico rappresenta le aspettative generali sull'outlook economico Cioè sulla prospettiva dell'economia Le banche sanno che lo Stato italiano non può più mettere moneta per far ripartire l'economia Sanno che ora la creazione di attività finanziarie per i cittadini e le imprese È completamente in mano alle banche stesse Dato che lo Stato non ha più capacità di spesa Ma la differenza è che lo Stato crea ricchezza finanziaria netta Un'attività netta per cittadini ed imprese Mentre le banche commerciali creano attività sempre controbilanciate da passività Ovvero zero ricchezza finanziaria netta Le banche sono procicliche Ovvero seguono il ciclo economico Ad una situazione di espansione economica le banche prestano e finanziano gli investimenti Ad una situazione di recessione, come quella in cui ci troviamo, chiudono i robinetti Facendo crollare l'economia In questa situazione di recessione economica dovuta all'eurozona L'Italia si trova con un tasso di disoccupazione all'11% E un tasso di utilizzo della propria capacità produttiva peggiore di tutti gli altri paesi europei Come mostra il grafico elaborato da Thomson Reuters Il mito dell'Italia della liretta è un falso Abbiamo visto come l'Italia della lira era l'Italia che entrò nel G7 L'Italia che con il suo export terrorizzava i tedeschi E l'Italia che era la prima economia europea per produttività industriale Eravamo i leader delle economie europee Dopo dieci anni di euro siamo tra i maiali d'Europa Siete alto da corsa e non c'è modo di farvi rallentare E non avete mai niente da dire Non sapete ascoltare E quanto dolore gratuito Buttate per il mondo Invece di nuotare Voi le stemmiate sul fondo Invece di nuotare